bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia che video che c'è oggi per quello che riguarda il futuro di fortnite l'evento del doomsday e la mappa della season 3 ci sono tantissime novità tantissime immagini tantissime curiosità che non vedo l'ora di farvi vedere prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica del mio video news e ora andiamo direttamente al primo argomento di oggi ed è una notizia davvero molto interessante molti non se lo ricorderanno parliamo della season è bella domanda 5 4 7 non me lo ricordo neanche io quando insomma ci fu il discorso di una voce fuori campo che annunciava l'arrivo di altri visitatori noi dobbiamo ricordarci per chi ha seguito la storyline in questi anni di fortnite che in realtà è tutto collegato sia il capitolo 1 che il capitolo 2 da 7 visitatori che cosa avranno da fare non si sa se siano buoni se siano cattivi non si è mai capito bene ne abbiamo visti alcuni abbiamo visto lo scienziato abbiamo visto proprio il visitatore abbiamo visto tanti altri personaggi tante altre skin e ne mancano ancora alcuni ma la cosa curiosa è che nella descrizione che vi ho detto poco fa si parlava del device se andiamo a leggere la seconda riga dice the device that we have scheduled for saturday oppure sotto dicono the device from within the loop itself la macchina il congegno entrerà nel suo stesso loop potrebbe essere già una cosa che ci anticipava questo device quindi questo doomsday insomma noi sappiamo o meglio sospettiamo che uno dei visitatori sia mida e avrebbe senso che lo fosse in quanto una cosa che accomuna tutti i visitatori è quella di mettere in pericolo la mappa di fortnite e i suoi giocatori e come vi stavo già dicendo anche nel trailer di questa season 2 del capitolo 2 si vede che nell'albero è stato intagliato e sono stati intagliati alcuni disegni tra cui quelli evidenziati che sono il logo del visitatore e il numero 7 appunto 7 come quelli che devono essere ancora quelli che sono i visitatori tutti quelli insomma di cui abbiamo appena parlato quindi già loro sapevano della storyline un fatto veramente interessante e curioso e tanta tanta roba per chi si è ricordato di questo dettaglio che non va assolutamente tralasciato e andiamo avanti perché c'è una notizia direttamente ufficiale sulla pagina reddit alla quale risponde proprio un membro dello staff di Epic Games che in due parole dice siccome sono stati bombardati di gente contraria ovviamente al posticipo di questa season dice ci dispiace aver detto con così tanto ritardo che la stagione sarebbe stata posticipata ma noi preferiamo che sia tutto perfetto nei minimi dettagli prima di rilasciare ora mi fai un pochettino ridere perché sono anni che noi chiamiamo Fortnite bug night visto che ci sono miliardi di bug e alcuni nuovi che vengono scoperti proprio giorno per giorno è anche vero che un gioco come Fortnite è quasi impossibile farlo senza bug e se non proprio impossibile però c'è una cosa davvero molto curiosa ragazzi e la state vedendo qua innanzitutto non è questa, questa è un'altra notizia, mi sa che l'ho messa dopo è chiaro, è ovvio ma magari alcuni non lo sanno è stata fatta anche un'estensione per le sfide dell'agenzia chiaramente la season termina l'11 giugno e quindi tutte le sfide dell'agenzia potranno essere completate fino all'11 giugno quindi un modo in più per ottenere il piccone, il deltaplano, la copertura dedicate alla skin ombra rinnegata se non ricordo male che appunto completano il suo set quello di cui volevo parlarvi invece è, cacchio allora non so più dove l'ho messa ve la dico a voce ve la dico ieri pomeriggio è stato scoperto che sono arrivati al 400esimo test prima della stagione 3 della patch 13.00 quindi la patch quella che ci accompagnerà appunto ci farà fare la transizione tra season 2 e season 3 quindi la patch 13.00 fino a ieri è stata provata 400 volte nei server loro privati per testarne appunto la stabilità è una cosa che non era mai successa per quanto riguarda le altre patch o le altre season precedenti quindi è un buon segno perché potrebbe arrivare davvero tanta tanta roba non voglio dilungarmi ulteriormente perché ho delle robe interessanti da farvi vedere una piccola curiosità nella patch 12.61 la Gin Spinner Teacup è un ballo che ora vi faccio vedere è stata rimossa oppure criptata nonostante fosse inserita nei file dal novembre 2019 chi non se la ricorda la Spinner Teacup era questa l'avevamo già vista un po' di tempo fa niente di esagerato se devo essere sincero un balletto molto strano particolare appunto con la skin che muove la tazza e invece un'altra notizia importante è proprio questa ragazzi perché tutti i giocatori da PC hanno ricevuto un nerf sul lame assist avevamo notato nei giorni precedenti che c'era un po' troppa facilità nel colpire gli avversari lo avevamo proprio visto insieme in live ora nessuno sa bene che cosa vogliano dire queste quattro voci però fanno parte appunto dell'allacciamento del mirino al bersaglio per i giocatori da PC quindi potete leggere più l'inner strength hip da 0.6 a 0.45 outer strength da 0.5 a 0.38 inner strength ad s dovrebbe essere appunto la mira proprio da 0.7 a 0.52 outer strength da 0.4 a 0.3 se qualcuno sa che cosa vogliono dire me lo scriva qua sotto nei commenti assolutamente tanto apprezzato ma andiamo avanti ragazzi perché questo è il pezzo forte del video di oggi come state vedendo in queste immagini intanto cerco anche la clip perché è veramente molto interessante come state vedendo in queste immagini ragazzi ci sono dei video riguardanti la possibile mappa della season 3 mi spiego non è che la mappa verrà cambiata e intanto vi faccio vedere lo spezzone così non vi faccio perdere tempo non è che la mappa verrà cambiata ragazzi ma verrà modificata in maniera notevole qua stiamo vedendo un filmato che viene preso appunto dal web dove si vede chiaramente il nostro personaggio di default con un livello dell'acqua notevolmente più alto rispetto a quanto siamo abituati a vedere in questo caso siamo nella parte di Foschi e come vedete appunto escono solamente le due ciminiere e alcuni alberi ora credo che vista così non sia proprio al 100% la dimensione corretta di Foschi quindi vi dico prendete questo filmato con le pinze è davvero molto divertente supporta creator xuderone intanto vedo di fare il bravo allora come si dice prendetelo ovviamente con le pinze questo video perché potrebbe tranquillamente essere un concept fatto e quindi non un video veritiero mentre invece quello che voglio farvi vedere adesso che è molto più interessante arriva direttamente da un altro leakers e potrebbe essere ciò che accadrà alla mappa con l'innalzamento dell'acqua quindi come vedete ragazzi sommerse gran parti delle città ora io mi chiedo siamo sicuri che sia davvero così nel senso siamo pronti a giocare una mappa che abbia più di metà della superficie coperta d'acqua è veramente una mossa corretta? magari non sarà così come stiamo vedendo però diciamo che il render è veramente interessantissimo si vedevano veramente delle cose che aspettiamo appunto di capire nella season 3 se devo essere sincero prima di salutarvi io mi auguro e ne sono comunque certo che Epic Games faccia le cose con criterio nel senso si renda conto che non può permettersi dopo aver posticipato per tre volte la patch e dopo averci fatto un pochettino cambiare le nostre idee sugli aggiornamenti in gioco che ci sono stati costantemente fino al termine della season 1 che non può permettersi dei passi falsi se non vuole evitare un calo se vuole evitare un calo di utenza insomma ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche oggi il video news e vi ricordo che a me mi trovate proprio adesso in live su Twitch ciao 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 ciao